allora cari amici faccio un'ultima parte del video perché mi sono reso conto che nel caricare il video dice l'ottopremium si interrompe al mese di agosto non capisco perché forse c'è stato un problema nel caricamento del video comunque ovviamente lascio a voi il gusto di controllare gli altri mesi vi faccio vedere ciò che avevo registrato nell'ultima parte del video vi facevo vedere il mese di dicembre dove avevamo primo di palermo più 10 30 e 26 più 58 84 e anche qui guardate avevamo vinto qui con l'84 qui con il 30 avevamo vinto qui ancora con il 30 qui con l'84 poi avevamo vinto qui la coppia 30 84 qui l'84 e qui ancora l'84 e vi portavo proprio a gennaio prima mensile il calcolo ovviamente lo facciamo insieme per il mese di gennaio primo di palermo più 10 fa 12 numero base quinto di milano più 58 quindi 87 più 58 fa 145 meno 90 55 quindi 12 55 sarà la nostra coppia per il mese di gennaio 2018 12 per la sorta del 1 12 55 potete puntare la coppia per la sorta del 2 e dell'1 speriamo che ci siano delle buone vincite con il metodo 10 e l'8 premium mi scuso se ci sono dei problemi con il caricamento del video primario però vi faccio questo video integrativo proprio per darvi la previsione per il mese di gennaio tanto nel video principale si ormai si era capito qual era il procedimento quindi quello è quello che mi interessava speriamo di vincere con questo metodo anche con il 47 potente ma credo che sarà così perché sono metodi molto forti che certamente ci daranno delle soddisfazioni nel mese di gennaio spero di aver fatto cosa gradita ne avevi fornito un ulteriore elaborato per il 10 e l'8 so che a molti di voi piace giocare al 10 e l'8 quindi ho pensato di fare cosa gradita nel proporvi questi due elaborati ovviamente chi vorrà avere acquisire il metodo completo non finisce qui perché nel metodo completo vi do un'intera decina da giocare quindi ci saranno dei numeri per la sorte del 4 del 5 del 6 del 7 fino ad arrivare alla sorte del 10 quindi giocheremo la decina proprio per tentare anche le sorti superiori chi mi contatterà in privato all'indirizzo mail che metterò in descrizione potrà avere la possibilità di conoscere come acquisire il metodo completo quindi mi raccomando per gennaio abbiamo 12 con 12 55 per il 10 e l'8 serale nessuno vita niente vita che voi possiate puntare questi numeri anche in ricevitoria nell'estrazione immediata speriamo di essere vincenti di cominciare l'2018 alla grande e con questi metodi il 47 potente che ho presentato ieri è 10 e l'8 premium di quest'oggi per adesso un saluto a tutti mister sbancolotto